Con lo slogan Accarezziamo la vita avete lanciato l'open day di domenica 24 ottobre nella sede di Anvoltafano. Qual è il vostro obiettivo e che cos'è la Pink Room? Allora, Accarezziamo la vita nasce proprio come un momento, una pausa per le donne ammalate oncologiche, ma non solo per le donne pink, ma interessa anche gli uomini, dove le donne potranno prendersi cura di loro attraverso le mani esperte di estetisti, parrucchieri e anche un esperto del cuoio capelluto, perché quando si affronta il percorso oncologico purtroppo l'aspetto estetico ne risente notevolmente e quindi l'obiettivo è proprio quello di cercare di aiutare le donne non solo con i farmaci e non solo con gli altri supporti che diamo, ma anche attraverso la cura del loro aspetto. Quali sono nello specifico i servizi offerti? Ci sarà un estetista che si occuperà dell'aspetto viso, mani, corpo, riflessologia plantare, poi ci sarà il parrucchiere che si occuperà del capello in senso stretto, quindi consigli sulle parrucche, consigli per curare i capelli nel periodo della ricrescita e ci sarà l'esperto di cuoio capelluto perché si può andare incontro a problemi di alopecia e quindi lui cercherà di dare dei consigli utili al riguardo. A che ora e dove si svolgerà l'Open Day? Allora l'Open Day si svolgerà in via Roma, nella sete Amvolt di Fano, via Roma 77A, dalle 10 in poi siamo lì io con altri volontari e chiunque vorrà partecipare all'inizio.